Il comune di Giulianova è il vincitore della prima edizione abruzzese, denominata un sacco in comune a tutta plastica. Il comune si aggiudica un'area giochi in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Al di là del premio ritengo che oggi abbiamo fatto una cosa di importante, abbiamo rafforzato l'educazione ambientale al rispetto dell'ambiente e della buona pratica della raccolta differenziata. È vero, Giulianova ha fatto un più 44% sulla raccolta della plastica, il che dice molto sull'attenzione che i cittadini riversano nei confronti della nostra città. Solo grazie all'educazione, alla divulgazione, all'informazione, anche all'interno delle scuole soprattutto, riusciamo a mantenere alto il livello di guardia e a consentire che la nostra città rappresenta un'eccellenza sulla raccolta differenziata. Il secondo classificato è Roseto degli Abruzzi con più 13%, infine terzo Teramo con un più 9%. Oggi il Corevla ha ricordato che l'Abruzzo è una delle regioni che ha la più alta percentuale di plastica, chilogrammi pro capite, delle regioni del sud. Siamo secondi soltanto alla campagna, con 14 chilogrammi pro capite la campagna ne ha 16. E ci sono diverse regioni anche nel nord che sono dietro all'Abruzzo, il che sta a significare che è grazie ai cittadini abruzzesi che si riesce a raggiungere questi ottimi risultati. Su Teramo si sta lavorando anche per facilitare un po' di più e abbassare i costi della raccolta differenziata? Noi stiamo intorno al 62%, quindi abbiamo per differenza un 38% di indifferenziata. Se riuscissimo a ridurre questa percentuale vorrebbe dire risparmiare diversi soldi. È un messaggio che va dato ai cittadini, dipende da loro principalmente, perché sono loro che fanno la raccolta differenziata. Questo risparmio servirà poi un domani a ridurre i costi dei bollettini tari.